Quest'oggi Basserpini è insieme a un responsabile del gruppo di preghiera di Patripio, Michele Larizza, di cui vogliamo parlare di questo grave problema che affligge una decina di famiglie ad Avella, forse anche di più. Sono di più le famiglie, noi perlomeno ne assistiamo 22-23. Diciamo innanzitutto che stiamo parlando di famiglie in difficoltà economica. Sono famiglie che economicamente stanno molto in difficoltà perché non riescono a pagare più bollette, non riescono a fare niente assolutamente e neanche comprarsi il necessario per andare avanti nell'arca della giornata. Noi purtroppo siamo dal 1998 su questo territorio e siamo sempre in prima linea rispetto agli altri perché ne sappiamo un po' più degli altri, queste persone che si rivolgono a noi. Cosa si può fare per aiutare queste famiglie in difficoltà? Ma noi speriamo che il popolo avillano e altri del mandamento o ci chiamano o ci offrono quelle che hanno. A noi i soldi non li prendiamo assolutamente, non vogliamo soldi ma vogliamo roba di vestiare eccetera. Quelle che oggi loro ci chiedono, questa è l'importanza, che oggi loro ci chiedono di vestiare pasta, scatolame eccetera. Noi siamo disponibili già su questi punti. Quindi beni di prima necessità. Chi vuole partecipare? Dove si deve ricare? Dove deve portare questi beni? Possono partecipare tutti. Noi abbiamo un punto di riferimento ad Avella al Club Napoli dove Michele Amati più volte abbiamo rifatto sempre la stessa storia. Riceviamo sì pan, sì roba. Là è un punto di riferimento che si può fare. Attenzione, in questi giorni abbiamo fatto già l'opposizione che ha il Comune. Abbiamo dato una lettera con le famiglie che noi seguiamo e speriamo che queste opposizioni insieme alla maggioranza si uniscano su queste cose, che è molto importante. La prima cosa è guardare il loro cittadino, assolutissimamente. Quindi è un problema veramente serio e invitiamo tutti i nostri lettori a dare il loro contributo. Ringraziamo Michele Larizza per il suo contributo che dà nel sociale. Vuole fare un ultimo invito? Sì, guardate che questo è solo l'inizio. Noi prevediamo nei prossimi mesi un aumento di queste famiglie perché non si riesce né a trovare né il lavoro e altro. Anche se vi serve qualcuno per lavorare o essere un badante o in campagna per pulire la campagna, chiedete e noi provvediamo subito. Quindi vi potete rivolgere al gruppo di preghiera di Padre Pio, di cui è responsabile Michele Larizza, che ringraziamo. Grazie a tutti.